Buongiorno a tutti e soprattutto buona domenica, ben trovati. E allora ringraziamo il Signore per questo giorno di grazia che è la domenica, giorno in cui potremo andare nella sua casa, percibarci del suo corpo, ascoltare la sua parola, ritrovarci con i fratelli e chi non può, a causa della malattia, si unisca spiritualmente a tutti noi, ai nostri altari e nel calice della messa metta il suo cuore. Allora ringraziamo Gesù e affidiamoci a Lui nella preghiera. Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato e fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la Tua santa volontà, per la maggior Tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Accogliete la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona Domenica a tutti e uniti nella preghiera.